ciao ciao amici benvenuti o bentornati qui sul mio canale sono il carletto e sono sempre qui nel mio angolo delle recensioni se non l'avete fatto ancora mi raccomando iscrivetevi al canale sono sempre qua insieme al mio stand o date che qua è tranquillo perché anche oggi anzi continuiamo oggi la recensione sui buoni lui è star platinum ed è lo stand di jotaro eccezionale anche questo qua della linea sas super action statue della medicos fatto veramente bene guardate qua ha un sacco di accessori e quindi lui essendo un buono il mio date stand e tranquillo perché non è un cattivone come the world allora che dico allora unboxiamolo vediamolo bene 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 nel dettaglio e questo qua è veramente bello 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 eccoci qua eccoci qua eccoci qua allora in star platinum troviamo la solita basetta che è uguale per tutti poi troviamo il solito librettino che ci indica i punti le articolazioni punti che possiamo muovere poi all'interno cosa troviamo troviamo allora non tantissimi accessori come possiamo vedere troviamo tre mani normale una che se non sbaglio lo star fighting quello lì dove lui come nella prima serie tramite le onde concentriche anche star platinum riesce fino a due metri ad allungare le parti del accolpire allungare la parte del suo corpo poi troviamo una seconda testa aggiuntiva che con questi capelli vedete un po rognosa guardate che bella questa è la colorazione violacea guardate come è fatta bene 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 ne piacciono un sacco sono fatte veramente bene però lo dico hanno tante imperfezioni quindi vanno prese se si trovano a prezzi contenuti ragazzi lo dico sempre vi faccio vedere la particolarità solo della mano allungata magari dopo li facciamo fare qua allungato due dita vi facciamo fare uno scontro aereo vediamo con the world e adesso andiamo a vedere bene bene la figura allora la figura guardate questa è l'altra espressione tutte queste qua fatte bene forse diciamo star platinum quello che assomiglia più al suo portatore dello stand che giotaro vedete fatto veramente bene anche quello che vi dico però vedete a delle imperfezioni quindi secondo me quando salgono troppo di prezzo queste qua non ne vale più la pena perché sono belle ma hanno tante ma tante piccole imperfezioni vedete anche quale borchie sul pugno non è che sono perfettissime questa parte degli snodi qua vedete dove vediamo praticamente che la parte bassa è attaccata dalla parte alta da questo perno non è vedete che fa muovere qual busto non è che mi piaccia un granché vedete quindi comunque sia sono curate si sono fatte bene però hanno comunque sia i loro difetti quindi belle 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 vedete da tenere in vetrina sicuramente per gli amanti di jojo possiamo fare le scene che combattono tra di loro quindi sono veramente belle però comunque quello che dico sempre non ci spendiamo troppi troppi soldi poi vi faccio vedere una particolarità che per dar la possibilità di muovere guardate qua è riuscito dall'inquadratura di muovere la spallina qua l'hanno attaccata in realtà la parte alta qua del collo vedete di qua la stessa cosa quindi noi ci dà la possibilità di muovere vedete l'articolazione e la spallina si alza questa è stata una genialata e carina come cosa vedete però tutto sommato come dico sempre questi snodi un po evidenti anche se noi star platinum meno non li amo profondamente vedete qua anche nella parte sotto il gonnellino si vedono le sfere però è anche qua vedete troppo evidenti dietro le sfere lo dico sempre però non c'è niente da dire lui è bello 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 lui è fatto bene ne vale la pena sicuramente perché guardate è spettacolare spettacolare vedete vedete è veramente bello 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 dai guardiamolo così una volta di eterna volta davanti nella sua interezza mezzo busto e adesso andiamo a vederlo girare magari faccio una posa così normale e poi li facciamo uno scontro aereo con the world eccolo qua a me sapete ragazzi che piace sempre primo giretto farlo vedere così in posa classica guardate che bello sono veramente questa linea sas fatte bene io dico sempre come anche per le figma che peccato potevano coprire un po di più gli snodi sarebbero stati dei capolavori delle opere d'arte però forse poi dopo aumenterebbero i costi una cosa l'altra e tendono sempre a lasciare gli snodi un po evidenti anche se devo dire la verità in star platinum vedete sono dalla parte frontale coperte dalle ginocchiere vedete in questo caso qua dai gomiti dalla parte anche qua del coprigomito che messe in alcune posizioni le vanno a coprire un pochettino dalla parte dietro invece vedete sono proprio molto evidenti anche qua sulle gambe le palline però tutto sommato questa anche questa è una delle più belle diciamo che giotaro col suo stand ed io col suo stand sono sicuramente almeno quelle da avere perché sono per me tra le più belle e sono comunque anche la terza serie tra le più belle se non la più bella quindi queste ci vogliono dai facciamogli uno scontro aereo con lo stand di dio che ho tenuto qua portata di mano guardate ragazzi cosa immaginato uno scontro vedete praticamente si parano entrambi il colpo stanno per scagliarsi un altro colpo eccezionale guardate possiamo tenere molto posabili in vetrina possiamo fargli la posizione che ci piace di più ed effettivamente queste sas non sono niente male medicos ha lavorato bene loro due sono come ho già detto tra le più belle peccato vedete sempre c'è qualche piccola imperfezione che per non mi fa gridare al capolavoro però guardate che cosa riusciamo a fare sono eccezionale sono dettagliate al tutto giusto e quindi quello che dico sempre quando le figure sono belle le possiamo comprare sperando di non trovare quelle che si approfittano e le vendono al triplo del loro valore però loro non posso dire niente sono belle questa scena qua mi esaltava un sacco immaginiamola in vetrina con dietro in piedi anche giotaro e dio che si scagliano magari un colpo vediamo se adesso perché ho messo via dio però poteva esserci anche una cosa di questo tipo vediamo se riesco a farla mettere qua così vedete che spettacolarità mettiamo uno da questo lato e da quest'altro lato di qua praticamente per dio ed esce fuori ragazzi una cosa eccezionale veramente promosse queste sas ma lo dico sempre a un giusto prezzo a un giusto prezzo andiamo a concludere allora anche questa recensione e ragazzi non ce l'ho fatta a non farvi vedere questa scenetta qua epica eccezionale guardate che spettacolo e anche tenerle così in vetrina è una cosa incredibile a me piacciono un sacco quindi è proprio spero di trasmettervi questa passione qua mi era venuta questa idea guardate qua di mettere i due stand con i due proprietari dello stand diciamo così e fare questo giretto anche così eccezionale e mi di lungo mi di lungo lo so mi di lungo ma è la forza della passione ragazzi dai stavolta è la volta giusta devo concludere devo concludere basta basta andiamo a concludere sta recensione di star platinum giunge al termine anche la recensione di questo star platinum voluto completare così tra loro due questo scontro tra star prati boom star platinum scusate the world e con giotaro e dio farli in questa scenetta finale perché queste quattro sono veramente belle della linea sas sono tra le più belle queste quattro qua quindi ragazzi se le troviamo a un buon prezzo queste qua della terza serie sono veramente belle 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 e vanno prese però a buon prezzo lo dico sempre non ci spendete troppo perché hanno tanti problemi tipo veramente tenere come avevo già detto in recensione dio in piedi senza basetta è impresa ardua perché piedini sono proprio piccolini fa fatica a tenersi in equilibrio spero che anche questa recensione di star platinum e poi col finale tutti insieme vi sia piaciuta vi viene a salutare anche il mio stand o date se vi è piaciuta la recensione mi raccomando pollice alzato attivate la campanellina così mi potete seguire sempre tutte le mie folli recensione e che dire soprattutto iscrivetevi al canale un saluto qua dal carletto dal suo stand dodate e da questo turbine di personaggi che si scontrano di gioco alla prossima recensione ciao ragazzi